Ciao a tutti ragazzi siamo in un nuovo video di Fortnite Qui siamo io, Lore e Albi nel territorio dei vichinghi E sono qui per fare una telecronica, Paul non c'è E intanto io spacco la legna, vabbè E luttiamo subito vichinghi, andiamo ai campetti Io con l'impulso qua cerco di fare dei dispetti ai miei compagni di squadra Guardate, qua andando il ping sale a me Provo fare dei dispetti, qui vola Albi proprio quando deve sparare le puzzette Allora, perché è il nuovo termine di quella cura per noi Adesso qui Lore viene atterrato in un fight, io provo ad aiutarlo, a dargli una mano Qui c'è uno che è abbastanza bravo anche nel costruire Mi hit, sale, lo hit, è bianco Albi spara da dietro, modifica e lo elimina Albi elimina a questo avversario E io nel frattempo rianimo a Lore E gli lascerò un medikit Però la fine di questo medikit non so quale sia Infatti Lore non lo prenderà mai Anzi non lo vedrà mai Forse gli sarà balgato Fortnite E intanto qui c'è l'altra gente Come possiamo notare dalle immagini Io Albi spariamo Io lo hito 32 blu Albi costruisce Andiamo Lo pushiamo Dov'è? Mi chiude, non avevo materiali per costruire Ed eccolo qui Lo elimina con un bell'80 Adesso valuto che armi lasciare a loro E naturalmente lootano Qui c'era altra gente Cecchinata Boom 195 con il cecchino semi-automatico Ragazzi il cecchino è la mia arma preferita Non la devo mai levare Cheat Qui ne metto una a terra E a questo punto decidiamo di pusharli Anche se eravamo fuori safe Alla fine c'è una palla a sinistra Quando finisco lui Perché deve morire Deve darmi la kill Prendo la torretta così E c'è gente Qui che sparava ancora Allora Lo tramortisce Un anonimo Vediamo Lo finisce Lo elimina Definitivamente Lascio colpi Metallo Servirà Ai miei compagni Intanto sparano granate Che poi con l'angia granate Ragazzi È l'arma Che dà un fastidio Incredibile Eccolo qui L'avversario È dentro la safe Lui Vediamo che A questo punto Decido di lasciar stare Anche perché la vita Non era tantissima Ma vettata Con l'angia granate Mi spara il falò Qui Bevo Due scudini Arriva anche l'ore E gli serviva uno scudino Arriva anche albi Quindi tutti Rintanati qui dentro Lascia i puzzetti E ce le spariamo Lascio razzi Perché servono All'ora E andiamo a land All'ora intanto Qui tramortisce uno Io prendo il varco Guardate qui Come emittavano Qua praticamente Avevo perso Le speranze di vita E mi allontano Ho deciso di portare Gli avversari da albini Perché era full Attenzione qui Qui era un fight Che Albi Lo conclude Con una kill Qui c'è questo Che voleva Per il fenomeno Ma col cecchino Non si scherza Sperto con me Ma Adesso lo rianimerà Il compagno E anche io Ho provato A lanciare delle granate Ma questo Ragazzi Ammetto che non lo so Usare Questo nuovo Lancia Razzi Albi intendo Tramortisce uno A sinistra E io decido Di busciare a questi Dove Uno L'aveva rianimato E infatti Guardate qui Con un colpo Lo faccio fuori E lo finisco E poi salgo Costruisco Prendo gli scendia Questi raggiacanti Che non lo so usare Qua avevo sbagliato Che non mi switcheva le armi E Boom Cambio arma Col pompa Mi dispiace Ma sei morto Accolgo altri due scendini Per raggiungere Quota 6 Prendo lo scar E intanto Siamo rimasti 3 contro 2 Questo praticamente Stava fermo Allora Lo tramortisce E manca l'ultimo In questo caso Manca l'ultimo Manca l'ultimo Che sale Sembrava bravino Ho detto Questo è il nuovo power Poi Spaccano tutto Sembra che doveva morire Ma c'aveva i deltaplani Eccolo lì E l'ultimo colpo Gli ultimi 35 Li fa pitti Lollo E muore Con 5 kill Grande vittoria Si balla E l'ultimo colpo VAMOS VAMOS Grazie a tutti.